Signore e signori ben ritrovati nel mio canale. Io come al solito sono Nicola ed oggi vado a farvi un piccolo video aggiornamento. Niente di troppo lungo, niente di troppo stressante. Essenzialmente ho aggiornato tutto il mio equipaggiamento per registrare i video su YouTube e anche per le live su Twitch. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un Auna 900B che è il microfono USB a condensatore che ho deciso di comprare perché ho trovato sinceramente il migliore dispositivo con rapporto qualità prezzo. Incredibile perché appunto voi state sentendo il modo in cui riesce a catturare la mia voce ed è qualcosa di estremamente stupendo. Riesco comunque ad avere un suono sempre molto pulito e molto profondo in qualsiasi situazione. L'ho comprato e usato e insieme ho trovato il pop filter e la spugnetta, cose che sono state veramente utili. Almeno insieme mi dicono tutti che cazzo te ne fai di usarle insieme, però visto che la spugnetta fa schifo e il pop filter anche, se li metti insieme magari riescono a togliere un po' di queste S molto fastidiose. Comunque a parte tutto quello che concerne il microfono che lo state sentendo, andiamo alla parte che state vedendo. Quello ragazzi che state vedendo è il video riprodotto di una Logitech C920 acquistata in saldo con l'Amazon Black Friday. Resa video fantastica, messa a fuoco fulminea. Come vedete ha già messo a fuoco la bottiglia. Adesso la rimette a fuoco. E come vedete ha già rimesso a fuoco me. Cioè è qualcosa di veramente fantastico. Quindi se magari devo farvi qualche recensione di qualche piccolo oggetto, mi basta fare come le Makeup Artist. Prendiamo questa spatola che è qua per motivi che non vi dico. No in realtà ragazzi ho il gesso, devo grattarmi dentro il gesso e uso questa cosa, è molto comoda. Faccio, ciao ragazze, oggi vi faccio vedere il mio nuovo oggetto. E poi faccio Cic e Ciac. Come vedete è molto comodo. La resa video è fantastica. La resa di luce è meravigliosa. Ma la cosa che mi ha stupito di più è stata l'ampiezza del campo. Cioè è tanta, ha veramente un campo di... Saranno 120 gradi, non ne sono sicuro adesso. Non sono andato a... Non sono andato a leggermi la scheda tecnica in particolare. Però veramente quello che esce da questa webcam è un video assurdamente fantastico. Va bene ragazzi, per questo piccolo vlog... Vlog, tra virgolette, di aggiornamento è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video inutile che non vi interesserà. Ciao, come al solito dal signor Nicola che prende 20 visualizzazioni a video. Ciao, come al solito dal signor.